Non si può da una parte digiunare e fare penitenza e dall'altra compiere ingiustizie. Celebrando la messa nella cappella della casa Santa Marta, Papa Francesco ha riflettuto sul significato reale del digiuno, la penitenza che siamo invitati a fare in questo tempo di quaresima. Non si tratta infatti di una formalità da compiere sotto i riflettori, cedendo all'ipocrisia, ma di un servizio reso agli ultimi. Digiunare vuol dire sciogliere le catene inique, liberare gli oppressi, dividere il pane con l'affamato. Il pontefice ha poi raccontato anche una vicenda capitata subito dopo la seconda guerra mondiale al padre gesuita Pedro Arrupe quando era missionario in Giappone. Un ricco uomo d'affari gli aveva fatto una donazione per la sua attività evangelizzatrice, ma con lui c'erano un fotografo e un giornalista e la busta conteneva solo 10 dollari. Questo è lo stesso che noi facciamo quando non paghiamo il giusto alla nostra gente. Noi prendiamo delle nostre penitenze, delle nostre gesti di digiuno, di preghiera, dell'emosina, prendiamo una tangente, la tangente della vanità, del farci vedere. E quello non è autenticità, quello è ipocrisia. Per questo quando Gesù dice ma quando pregate fallo di nascosto, quando date la limossina non fare suonare la tromba, quando digiunate non fate i malinconici. E' lo stesso che se dicesse per favore quando fate un'opera buona non prendete la tangente di quest'opera buona, è soltanto per il padre. Grazie. Grazie.